Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, è andato in arresto cardiaco lungo il raccordo autostradale, tra l'altro nel pieno caos della città del Natale, è stato salvato da tre ragazzi che viaggiavano in auto dietro di lui, ce lo racconta Chiara Sadotti. Il viaggio ai mercatini di Arezzo si stava per trasformare in una tragedia, a scrivere fortunatamente un epilogo diverso l'intervento di tre giovani soccorritori. Un uomo di 48 anni, assieme alla famiglia, era infatti in coda a lungo il raccordo che dall'autostrada 1 porta al centro città. Erano le 18.20 dello scorso sabato, una delle giornate di maggior afflusso per le feste e natalizie, quando l'uomo è stato colto da un arresto cardiaco improvviso e ha avuto solo il tempo di fermare l'auto in mezzo alla carreggiata. Providenziale l'intervento dei tre giovani, probabilmente operatori delle misericordie toscane, che si trovavano nell'auto dietro di lui. Senza perdere tempo hanno soccorso il 4010 in una situazione molto complicata, nel buio di una strada trafficata tra fari di auto e qualche goccia di pioggia. Il loro intervento, ha raccontato la dottoressa Katia Bacchini del 118 di Arezzo, che è intervenuta sul posto, è stato fondamentale, hanno immediatamente chiamato l'emergenza ed effettuato tutte le manovre necessarie e lo hanno fatto con grande sangue, freddo e professionalità. Al nostro arrivo, prosegue la dottoressa, abbiamo defibrillato l'uomo direttamente in strada, ha ripreso a respirare e questo ci ha permesso di trasportarlo in codice 3 in ospedale in tutta sicurezza. Questo evento, che fortunatamente possiamo raccontare, aggiunge poi il direttore della centrale 118, Simone Nocentini, dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'importanza della formazione e della preparazione, che deve coinvolgere sempre più persone possibile. I primi minuti che seguono un arresto cardiaco sono infatti fondamentali. Sono due gli episodi di arresto cardiaco che sono avvenuti nelle scorse ore, quello che vi abbiamo appena raccontato. Invece questa mattina c'è stata una forte apprezzione per le condizioni di un uomo di 68 anni che ha accusato un malore all'interno del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo. L'uomo stava eseguendo dei lavori legati all'impianto di riscaldamento e è andato in arresto cardiaco ed è stato defibrillato sul posto con l'utilizzo del defibrillatore della stessa struttura scolastica. E' stato dunque stabilizzato da un mezzo di soccorso avanzato e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fiorentino di Careggi con l'eli soccorso Pegaso. Arrivano i primi freddi e con essi anche i primi casi di intossicazione da monossido di carbonio. Una intera famiglia del Valdarno rimasta intossicata proprio ieri intorno alle 22 nel comune di Montevarchi. La richiesta di soccorso era arrivata da tre persone, una donna di 50 anni, il marito di 55 e il figlio minorenne. Sul posto i vigili del fuoco, un'automedica del Valdarno per le verifiche e intanto i pazienti sono stati trasportati con la misericordia di loro ciuffenna e di Terronova Bracciolini all'ospedale della Gruccia proprio per verificare le loro condizioni. Per tutti i componenti della famiglia è stato deciso il trasferimento con l'ambulanza della Croce Bianca all'ospedale Careggi di Firenze per il trattamento in camera iperbarica. E allora dicevamo arriva il freddo e ovviamente le problematiche importanti sono anche per chi insomma non ha un tetto sulla testa. Sono peraltro aumentate le richieste per accedere al dormitorio della Caritas, ce lo racconta il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti. I numeri sono in aumento da un po' di tempo per la verità, tant'è vero che anche la risposta è cambiata. Noi siamo passati da un dormitorio che di fatto era uno stanzone che veniva presidiato da Caritas e da dei volontari attraverso peraltro un rapporto stretto con la Questura, con i servizi sociali, alle dimore invernali che sono qualche cosa di più perché non è soltanto un luogo dove dormire, che va bene ovviamente, ma è anche un luogo dove ricostruire una cordialità con la comunità. Quindi attraverso le dimore invernali si dà certamente un posto letto in un contesto più di casa rispetto a uno stanzone, ma soprattutto si entra dentro un percorso di supporto che vada oltre la notte e quindi cerchi anche di guardare ad un inserimento sociale più ampio, più complessivo. È evidentemente aumentato il bisogno e anche le risposte si sono specializzate, verrebbe da dire, grazie a Caritas che su questo ha un'esperienza ormai antica e che insieme ai servizi innova anche le risposte in base ai bisogni. Ecco, in questa seconda modalità, più nuova, le persone vengono prese in carico proprio nel loro percorso di vita? Caritas ha sempre avuto questo atteggiamento anche ai tempi del dormitorio, nel senso che proprio la volontà di in qualche modo fare il pass, seguirli non era tanto e solo un elemento di controllo, ma era anche un elemento di accompagnamento. Questa formula permette che questo accompagnamento sia ancora più facilitato da una logistica, che a volte parte della risposta, che appunto aiuta la persona a sentirsi accolta in un bisogno primario, cioè dormire al caldo, ma anche rispetto ad una ricostruzione di un progetto di vita. Le dimore invernali sono anche questo, cioè è la volontà di dare una risposta che non sia solo uno stanzone, non freddo, ma che sia un luogo di inserimento sociale pienamente inteso. Per chi questa risposta non la vuole e sta fuori, è fuori freddo, allora Croce Rossa interviene con un supporto immediato di bisogno emergenziale per dare comunque una risposta di accoglienza che non è quella che noi vorremmo, ma forse quella che loro hanno scelto. Da stasera fino a domani la questura di Arezzo sarà illuminata simbolicamente di verde in occasione della giornata dedicata alle persone scomparse, istituita nel 2019 dal commissario straordinario di governo per le persone scomparse, il ricordo di una donna, madre di due bambini, sparita nel nulla oltre 20 anni fa. La giornata rappresenta una valida opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno delle persone scomparse, purtroppo in costante crescita. Fenomeno che, lo ricorderete, ha toccato anche la provincia di Arezzo. Nel 2014 sparì guerrina a Piscaglia e insomma per la sua sparizione, soprattutto per il suo omicidio, è in carcere padre Grazien Alabi. Questo per dire che adesso nella parrocchia che è stata tristemente nota, alle cronache, proprio per questo caso, arriva un nuovo parroco appunto per non solo Badia Tedalda e Carafaello, ma anche Concellato, Pratieghi, San Gianni e Santa Sofia. L'ha ovviamente nominato il nuovo Vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca. Si tratta di Don Juan Carlos Ardila Rios, attualmente parroco di Santo Stefano, in carico che manterrà il nuovo ingresso avverrà il prossimo 5 di gennaio. Adesso invece torniamo a parlare della E78, un caso insomma che aveva fatto molto discutere, quello degli espropri. Si è chiusa con un no formale alle richieste del territorio aretino, la conferenza dei servizi decisori appunto sul progetto definitivo del secondo lotto della E78 che si è tenuta questa mattina in regione toscana. Lo comunica l'assessore del comune di Arezzo, Marco Sarchetti, alle grandi opere. Nessuna delle osservazioni, ha detto, presentate dal comune di Arezzo è stata recepita dal commissario dal punto di vista formale. Di fatto è stata così chiusa ogni apertura riguardo alle posizioni del comune che si era appunto presentato con un parere positivo con prescrizioni sul raddoppio della Due Mari e negativo sulle due bretelle. E adesso invece parliamo ancora di sociale perché la fondazione Arezzo Comunità in questo fine settimana Ponte dell'Immacolata, poi ne parleremo ovviamente legato al Natale, aveva però un suo gazebo proprio per insomma approfittare di questa ghiotta occasione del tanto afflusso in città per fare un importante appello. Il nostro obiettivo, il nostro tentativo, come dice il titolo della campagna, è Un cittadino, un volontario. Di fare di questa città una città veramente di volontari. Dedicare un po', veramente un po' del proprio tempo in una settimana per potersi dedicare ai bisognosi piuttosto che alle persone con disabilità fisiche o mentali, piuttosto che alle pubbliche assistenze. È questo l'appello che la fondazione Arezzo Comunità rivolge ai cittadini per promuovere l'impegno volontario come occasione di crescita personale e un momento di sviluppo dell'intera comunità. La finalità dunque quella di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di interesse collettivo che adesso è scesa anche in piazza, nel cuore della città, con una postazione mobile in occasione della città del Natale. Abbiamo aperto il nostro gazebo non soltanto alle nostre associazioni che volevano soffronire della nostra casa mobile del volontariato, ma anche a tutta la cittadinanza per avere proprio informazioni sulle nostre associazioni e soprattutto sul tema del volontariato che stiamo promuovendo in questi giorni anche con i manifesti sparsi in tutta la città. Siamo nati ufficialmente il 20 settembre e stiamo già operando nel territorio raccogliendo dei fondi da distribuire alla cittadinanza con spese varie, pagamento di bolletto, pagamento di affitti per le persone indigenti. Però noi facendo lavoro per bambini di scuola per Bangla, poi iniziato un altro per Parco Pionta e per donna, per il corso di italiano. Poi in futuro devo pensare cosa devo fare. Però la nostra comunità è abbastanza grande, c'è tante cose che non c'è problema, devo cercare come si svolge questo qualcosa. E siamo alla politica, un nuovo coordinatore di Forza Italia Arezzo domenica 17 dicembre saranno eletti appunto il nuovo coordinatore, i membri del Comitato Provinciale, oltre ai delegati al Congresso Nazionale di Roma che si terrà all'inizio del 2024. Il congresso per quello che riguarda il territorio aretino si svolgerà a Camucia. Il nostro partito, ha detto l'attuale coordinatore provinciale, Bernardo Mennini, ha dimostrato dopo la morte del presidente Berlusconi, a cui vanno tutta la nostra riconoscenza e il nostro affetto, di sapere reagire benissimo, grazie alla capace e autorevole guida di Antonio Tajani. Abbiamo ottenuto percentuali rilevantissime, dice ancora Mennini, anche a doppia cifra, che dimostrano come la nostra classe dirigente sia capace di attrarre consensi e appunto ha dimostrato con candidature adeguate di essere determinante per la vittoria dell'intero centro-destra. E allora, lo dicevamo poco fa, questa città del Natale nel Ponte dell'Immacolata ha davvero sbaragliato ogni record. Verrà ricordato come il fine settimana dei record. Quello che si è appena concluso per Arezzo è stato un weekend che difficilmente potrà essere dimenticato. Complice il Ponte dell'Immacolata da venerdì a domenica, la città ha registrato presenze impressionanti con l'occupazione dei posti letto prossima al 100% in città. Sui numeri interviene Gianluca Rosai, vice direttore di Confcommercio Arezzo e Firenze, sostenendo che gli eventi natalizi di Arezzo stanno attraendo quest'anno più persone. È stato un Ponte dell'Immacolata molto positivo, afferma, con punte record venerdì 8 e sabato 9. In particolare, il sabato è stato il giorno con più visitatori al villaggio tirolese rispetto al 2015, anno in cui questa iniziativa partì. Segno che la manifestazione è sempre in crescita e sta diventando punto di riferimento nazionale per le destinazioni natalizie. Il mercatino tirolese andrà avanti fino al primo di gennaio, anche in questo caso una data allungata rispetto agli scorsi anni, mentre tutte le altre iniziative della città del Natale proseguiranno fino all'Epifania, in cerca, chissà, di altri record. E la prima edizione di Vinicoli ad Anghiari, degustazioni nel cuore appunto della cittadina della Valtiberina, è andata in archivio e ha fatto registrare un enorme successo sotto il profilo della partecipazione e anche a livello di gradimento. Circa 2000 le persone che tra l'8 e il 9 di dicembre hanno preso parte all'evento assaggiando i vini pregiati, assaporando le eccellenze enogastronomiche che hanno caratterizzato il percorso passeggiando nel centro di Anghiari. Sono oltre 18 mila euro che sono stati raccolti in favore del Calcit. L'iniziativa del gruppo femminile ha riscosso un notevole successo. La mostra sotto l'albero di Natale, organizzata fino al 10 di dicembre, ha visto appunto protagoniste le donne del comitato e ha raggiunto la ragualdevole cifra di 18 mila 10 euro che saranno donate al servizio scudo cure domiciliari per malati oncologici. E siamo allo sport. L'Arezzo con una comunque una buona prestazione ha perso contro la Torres a Sassari, come sappiamo, per tre gol a due. Sentiamo brevemente Mister Indiani. È una stagione difficile, difficile da questo punto di vista perché non ce ne va bene una. Però dall'altra parte soddisfazione perché credo sia l'ennesima bella prestazione che la squadra ha fatto. I nostri 19 punti credo siano veramente una miseria per quello che abbiamo proposto fino a qua. Abbiamo fatto una grossa gara, dai. Una grossa gara via in 11 contro 11 del primo tempo e inferiorità non media al secondo. Peccato perché a quel punto lì dopo il 2-2 se non capitava un'infortunio di genere se non ho vinto ce la facevamo. Ha portato a casa invece un pareggio l'Arezzo calcio femminile contro il Brescia. La partita è finita 1-1. L'Arezzo calcio femminile torna dalla trasferta di Brescia con un punto frutto dell'1-1. Al ventiquattresimo gol del Lea Maranto avanti con Plonner dalla distanza che fa partire un gran sinistro e va a infilarsi al 7. Il Brescia recupera poi al terzo minuto del secondo tempo con Zanoletti sugli sviluppi di un corner si fa trovare pronta sul secondo palo e di testa batte Nardi. Come è andata la partita? Soprattutto il primo tempo penso che siamo trovati molto bene. Abbiamo fatto un paio di occasioni anche per fare il 2-0. Il nostro pressing era buono. Anche nel centrocampo abbiamo messo più densità perché lo sappiamo con questo modulo del rombo che fanno devi avere un po' più densitali. Molto soddisfatto di un punto di vista anche della Carolina Paganini che ha giocato in una posizione un po' era la prima volta per lei però ci ha dato questa densità diciamo più centralmente. Poi il secondo tempo penso che hanno fatto il gol dopo tre minuti della ripresa quindi è adatto a loro sicuramente giocando in casa un extra lift però noi non abbiamo cambiato il nostro piano di gioco è andato molto bene quindi sì generalmente sì prendere un punto qui a Brescia abbiamo visto che non è stato molto molto facile per altre squadre di prendere punti a casa di portare punti a casa quindi sì generalmente dopo tutto sì. Vittoria invece per l'AMEN BC Servizi Arezzo che senza freni ha abbattuto al Pallasport Estra la palla canestro Sestri. Grande prestazione per l'AMEN BC Servizi che conquista per la prima volta in questa stagione e due vittorie consecutive regolando la pratica Sestri con il punteggio di 81-57. Abbiamo approcciato benissimo la partita ma oggi si è visto abbiamo avuto la conferma che tutti i ragazzi sono migliorati tutti insieme sono migliorati abbiamo messo su una difesa veramente importante in cui tutti ci aiutiamo dobbiamo continuare così. Partenza determinata degli Amaranto che provano subito ad accelerare il ritmo di gara i punti di toia Rossi e Zocca abbinati alla difesa sui lunghi avversari valgono il primo mini a lungo che porta il quintetto a retino a chiudere il primo quarto in vantaggio 20-11. La reazione degli ospiti è perentoria nel primo minuto e mezzo del secondo parziale Sestri piazza un 8-1 che riporta stretto contatto gli ospiti. Arezzo non riesce ad essere fluido come ad inizio gara ma il merito di tenere qualche lunghezza di vantaggio nonostante 5 tiri liberi sbagliati. Rossi e Zocca riportano poi l'AMMBC Servizi all'intervallo in vantaggio. Dopo la pausa lunga in campo rientra una sba letteralmente trasformata la difesa retina aggressiva e toglie facili soluzioni agli avversari. I ragazzi di Cocce Evangelisti non sono sazi e continuano con la stessa intensità mettendo in difficoltà Sestri che segna con il contagocce. L'Arezzo tocca anche il più 28 prima di chiudere a fine terzo quarto sul 63-38. Negli ultimi dieci minuti l'AMMBC Servizi amministra con attenzione il vantaggio coinvolgendo nelle rotazioni anche Vagnuzzi che risponde alla chiamata con un'ottima prestazione. Siamo partiti da una base di ragazzi giovani che possibilmente non avevano mai fatto i protagonisti e adesso si ritrovano a esserlo e c'è un piacere tantissimo piacere per Mirko Vagnuzzi che possibilmente poteva giocare anche di più in queste altre partite perché si sta allenando veramente bene ed è cresciuto tantissimo e bravi a tutti. Il finale di 81-57 premia l'ottima prestazione della SBA adesso attesa dalla trasferta di Cuarata che ha appena vinto in questo turno sul campo di Castelfiorentino raggiungendo quota 12 in classifica. Noi l'affrontiamo adesso a viso aperto non dobbiamo avere dobbiamo avere rispetto sicuramente perché sono esperti ed è un campo veramente difficile ma adesso penso abbiamo preso convinzione nei nostri mezzi e abbiamo anche noi le nostre sicurezze. Ed infine parliamo di pallavolo quattro vittorie consecutive per il club Arezzo che nella sesta giornata di campionato si aggiudica un nuovo successo superando con un netto 3 a 0 la formazione del Prato e il prossimo impegno la trasferta di Firenze sabato 16 dicembre dove i botoli affronteranno la formazione di Firenze Ovest è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e arrivederci grazie per la visione grazie per la visione